finalmente è arrivata l'estate e quindi prepariamo insieme la crema fredda a caffè questa volta senza caffè solubile iniziamo versiamo in un pentolino il caffè amaro lo zucchero potete utilizzare anche lo zucchero di canna l'amido e il cacao setacciati mescolate bene il tutto con una frusta a questo punto spostiamoci ai fornelli e cuociamo la crema per pochi minuti fino a quando non risulterà così densa esattamente così mescolate e trasferite la crema in una ciotola aggiungete uno o due cucchiaini di nutella io ne ho aggiunto uno per via della dieta mescolate bene fino a quando non sarà sciolta mescolate di tanto in tanto la crema a caffè per farla raffreddare quindi copritela con pellicola trasparente a contatto e lasciatela raffreddare completamente dovrà avere questa consistenza adesso andiamo a montare la panna che dovrà essere ben fredda montate fino a quando non avrete tenuto una panna soda così ecco come vedete bella densa e soda adesso riprendete la crema a caffè che dovrà essere ben fredda e aggiungete la panna con movimenti circolari dal basso verso l'alto aggiungete la panna poco alla volta per la buona riuscita della ricetta tutti gli ingredienti dovranno essere ben freddi la crema fredda al caffè cacao è pronta questa è la consistenza che dovrà avere a questo punto trasferiamo la crema al caffè nei bicchierini o nelle coppette monoporzioni potrete decorare la crema al caffè e guarnirla con granella di nocciola panna cacao o aggiungere biscottini o cialde riempiti i bicchierini li trasferite in frigorifero fino al momento di servire spolverizzate con il cacao amaro e guarnite come più preferite la nostra crema fredda al caffè cacao è pronta per essere servita e gustata guardate la cremosità come vellutata e densa ciao